Ok, va giù! Con questo lo farò addormentare, così poi dopo lo trasformerò in un gatto nero! Ahahahah! Felino, nero, diventa! Ho sbagliato formula! Non è un gatto, adesso è un tenerissimo coniglietto! Uffa, sono ancora arrabbiata perché ce l'avevo quasi fatta trasformare Babbo Salvo, quel guastapeste, in un gatto nero! Poi ovviamente è arrivata la mamma, anche quella una guastapeste, e ha rovinato tutto! Quindi io non ho potuto trasformare il Babbo in un gatto nero, sono molto arrabbiata! Lo voglio rifare, anzi lo devo rifare, però devo aspettare il momento giusto! Giorgia? Ma sei ancora vestita da strega? Mamma, ci credo, siamo ad Halloween come mi dovevo vestire! Anzi, visto che siamo ad Halloween, vatti a cambiare pure se! Sì, dai Giorgia, hai sempre voglia di giocare, ora non c'ho tempo, anzi piuttosto te! L'hai fatti i compiti, perché non vai a farli? Uffa, mammi, dai però con questi compiti! Vabbè, vado a farli! Anche se non c'avevo tanta voglia! E quando mai ha voglia di fare i compiti? Salvo, dove sei? Salvo! Salvo, dove sei? Oh, sono qui! Salvo! Eh? Ma che ci fai lì? Che ci faccio qui? Mi sto nascondendo dalla Giorgia, perché sono sicuro che lei mi vuole trasformare di nuovo in un gatto! Ti ricordi che l'altro giorno tutto legato, che mi voleva trasformare? Ma dai, Salvo! Ma è una bambina, è Halloween e sta giocando, no? Eh sì, però l'altra volta mi aveva legato anche alla sedia, e non mi sembra tanto un gioco questo, eh! Sì, vabbè, dai, a parte gli scherzi, io devo andare via! Te, mi raccomando, stai attento a Giorgia, ok? Stare attento a Giorgia? Devo stare attento a me stesso! Perché quella, ora che tu vai via, proverà di tutto per farmi fuori! Comunque, sì, gli do l'annocchiata! Vabbè, sono pronta! Ciao, Giorgia! Ciao, Salvo! Ecco, è andata via! Ora mi nasconderò di nuovo, perché non è che mi sento tanto al sicuro! E lei di sicuro ora proverà a farmi fuori! Mi metto! Quella guastapeste è andata via di casa, ora ci penso io al babbo! Voi, continuate a seguirci e lasciate un bel polliscione per vedere se riuscirò a trasformare in un gatto nero quel babbeo di babbo salvo! Uffa, però! Non mi ricordo più la formula! Sono sicura che ci voleva la paglia, però il resto proprio non me lo ricordo! Ed è tutto scritto nel mio libro delle streghe! Lo devo recuperare! Ecco, ci siamo! Di sicuro sta tramando qualcosa! Dove l'ho messo? Dove l'ho messo il libro? C'è un cartello che è indicato di là, quindi dove andiamo? Ok, qui c'è un'entrata? Eccolo il mio libro! Che sta combinando? Ma dov'è? Ma non la vedo! Ma dove sta andata? Eccolo, ci vorrevano! Due ragni grossi, un diso, un occhio e un cervello! Ok, ce li ho tutti! Mi ero scordata, erano tutti questi ingredienti! Allora, c'era scritto... Due ragni grossi! Un occhio di zombie! Un dito di Frankenstein! Un cervello di un orco! Orche di... Sofcus! Mi sa che questa volta la formula funzionerà! Ah, ecco! Buona idea! Con questo lo farò addormentare di nuovo! Così poi dopo lo trasformerò in un gatto nero! Ah! Vanno? Ah! Che è? Ah, Torgia! Ma che sei ancora visto da strega? Non è? Che mi vuoi fare qualcosa? No, non ti voglio fare nulla! Tranquillo! Ah, ok! Allora, facciamo pace! Infatti, Babbo, pensavo alla stessa cosa! Infatti, per dimostrarti che ti voglio bene... Sì! Ti ho portato un lecca-lecca! Oh, grazie! A che gusto è? Arancia! Ah, ok! Mmm! Ma è buonissimo! Mi sa che la formula ha funzionato benissimo! Ah, ah, ah! Quel Babbo ci è cascato di nuovo! Adesso non vedo l'ora di trasformarlo in un gatto nero! Poverino! Mi dispiace tantissimo! Ah, 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 ah! Qual è la formula? Ah, ce l'ho! Felino! Nerum! Diventa! Sì! Ce l'ho fatta questa volta! Oh, non vedo l'ora di vedere questo gattino nero! Ma ho sbagliato formula! Non è un gatto! Adesso è un tenerissimo coniglietto! Ah, però è troppo carino! Mi sa che è quasi quasi! Me lo tengo così! Se siete d'accordo, lasciate un bel palliscione! Guardate che carino! Un piccolo batuffolino! Oh, che carino che sei! Questa qui è la mamma che è tornata! Dove lo metto? Dove lo metto? Non lo metto più! E tu stai fermo lì! Se no ti trasforma in un corvo! Oh, finalmente a casa! Ciao, Giorgia! Tutto ok? Sì, sì! È tutto a posto! Vado a preparare la cena? Sì, va bene! Ci ha mancato poco! Bravo! Che sei stato qui fermo! Sì, ma ora dove lo metto? Vabbè, lo porto in camera! Spero che la mamma non lo scopri! Ma che carino che sei! Babbo Salvo, lo sai che sei più carino così che quando sei umano? Però, Babbo Salvo, per un coniglietto così carino piccolino non va bene di nome! Devo inventarti un nome! Lo chiamerò Polpetta! Oh, perché ci assomiglia tantissimo la Polpetta! Che carino! Però, secondo me, ti è venuto un po' di fame! Aspetta qui che ti vado a prendere un po' da mangiare! Polpetta, mi raccomando, non fare né cacca né pipì sui letto! Sennò la mamma si arrabbia che mi deve rifare le coperte! Ok, io vado a prenderle da mangiare! Aiuto, aiuto! Che ci faccio sul letto? Aiuto, perché è tutto così grande qui? Aiuto! Ma dov'è? Ah, ecco! Secondo me le piacerà un sacco questa carosa a Polpetta! Giorgia! Che cosa stai facendo, Giorgia? Ma, eh, mamma mia, ho preso una carota per andare su a mangiarmela, perché qua giù non ci voglio stare, voglio andare su a mangiarmela! E sentiamo un po', ma da quando è che mangi le carote? Non mangiare i plum cake te una volta? Sì, mamma, lo so, ma da stasera a domani mattina faccio la dieta di plum cake, quindi mi mangio la carota, ok? Vabbè, ok! C'è mancato poco! Salvo! Salvo! Ma dove? Giorgia! Bambino ragazzi, prima arrivavo ben quassù, Polpetta, ma c'avevi fame, hai mangiato tantissimo! Ok, Polpetta, ora c'è un piccolo problema, dove ti metto? C'è la mamma che sta arrivando, sotto la scrivania. Mi raccomando, fermo, se no, te l'ho già detto, ti trasformi in un cervo, fermo. Giorgia? Sì, mamma? Hai visto il babbo? No, mamma, se no, sarà qui, lo vedevo bene, scusa. Quindi non sai dov'è, no? No, mamma, non so dov'è, mi lasci da sola. Va bene, ma dove sarà andato? Dove sarà? Salvo! Mamma Genzia, sono qui, sono qua sotto, non mi vedi? Sono troppo piccolo, sono qui sotto! Ma piccolino, sei proprio carino! Ah, che bello! Sai che babbo, sai che Polpetta? Per me, io ti lascerei così per tutta la vista. Sei troppo carino così piccolino. Così non mi brontolerai e non mi darai tutti i compiti da fare. Ah, a parte a darmi i compiti, c'è la mamma Cinzia. Vabbè, trasformerò prima o poi anche lei in un coniglio. Un coniglio. Salvo, sei qui? No, non c'è. Salvo, sei in garage? No, neanche. Non riesco proprio a trovarlo. Ragazzi, se voi sapete dov'è, per favore lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Ma... Ma questo non è il cappello di babbo Salvo? Che strano! Ma lui non va mai via di casa senza questo cappello. Ma dove sarà? Ma aspettate un attimo. Il cappello è qui. Babbo Salvo non c'è. Giorgia è in camera che si comporta un po' in maniera strana. Ma non è che sta combinando qualcosa? Vado a vedere. Oh, ma sei così carino, Polpetta. Noi due staremo così tanto insieme che diventeremo migliori amici. Ma con chi sta parlando, Giorgia? Poi, Polpetta. Giorgia! Stai arrivando la mamma. Dove ti posso mettere, Polpetta? Qui dietro. Fermo. Giorgia, che cosa stai nascondendo? Niente. Giorgia, dimmi dove è il babbo. Mamma Cinzia, sono qui dietro la valigia. Guarda, sono qui dietro. Aiuto, aiuto. Mamma, te l'ho già detto prima. Non so dove è il babbo. Eppure, ti ho sentito parlare con qualcuno. E poi, il cappello del babbo è in casa. E poi, che cosa stai nascondendo lì dietro? No, mamma. Spostati, spostati, fammi vedere. Ma, Giorgia. Ma questo è un coniglio. Ma dove l'hai preso? Mamma, l'ho trovato. Giorgia, l'hai trovato dove, scusami? Nel giardino. Giorgia, ma se l'hai trovato in giardino, non pensi che sia di qualcuno e che è scappato? Ma, mamma, era nel giardino tutto solo, quindi l'ho preso io. No, basta, Giorgia. Non lo possiamo senere. Lo riporto in giardino, ok? No, 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 no. No, mamma, ti prego, non lo portare fuori. No, mamma. Perché non lo dovrei portare fuori? Senti, mamma, ti devo dire una cosa importantissima. Vieni, stai e sei qua con me sul letto. Ok. Sentiamo, cosa mi devi dire di così importante? Eh, senti, mamma, quello lì è il babbo. Il babbo? Come, Giorgia? Eh, sì, perché lo volevo trasformare in un gatto nero perché uno, mi brontolava sempre, due, perché mi mancava il mio vecchio gatto nero. e solamente ho sbagliato la formula e l'ho trasformato in un tenero coniglio. Salvo? Un tenero coniglio? Giorgia, ma come si fa ora? Devi trovare un modo per trasformarlo in babbo salvo. Mamma, però, c'è un piccolo problema. Nel libro delle streghe, dove ci sono scritti tutti gli incantesimi, non c'è la formula per trasformare un coniglio in un umano. Allora, ragazzi, vi dobbiamo salutare perché dobbiamo trovare un modo ora per trasformare questo tenero coniglio in babbo salvo. Io rivolgo babbo salvo indietro. Giorgia, chiudite il video? Sì, mamma. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti. E io, mamma Cinzia e babbo salvo chiamato Polpetta vi salutiamo con un grande... Wow! Giorgia, vai a prendere il libro. Dai, su, corri. Noi siamo Salvo e Giorgia, wow! Di video è sempre una pioggia. Con mamma Cinzia e quante ne combiniamo tra giochi e risate. Sai che ci divertiamo? Wow!